Oggi vediamo come creare una riserva d'acqua per le nostre piante da interno. Tutto quello che ci serve è un filo di cotone, che metteremo in contatto col terriccio facendolo passare dai fori di drenaggio e che andrà a pescare dalla riserva d'acqua. Per aiutarci possiamo usare uno stuzzicadenti. Con pazienza facciamo passare il nostro filo di cotone attraverso due fori di drenaggio, in questo modo. Andiamo a regolare la lunghezza del nostro filo di cotone in modo che arrivi sul fondo del coprivaso. A questo punto non ci resta che riempire la riserva d'acqua e il gioco è fatto, la nostra pianta sarà autonoma anche quando noi saremo in vacanza.